ciao a tutti allora questo è un video che vi faccio per farvi gli auguri di natale ho voluto farveli così in un modo un pochino diverso proponendovi qualche nail art se così la possiamo chiamare io mi vergogno perché sono incapace però qualche idea che uso io in queste feste per rifarmi le unghiette tra cui una che vi proporrò è proprio questa vedete e niente vi voglio fare tanti tanti auguri di un felice natale di buone feste mangiate tanto poi c'è il tempo per fare la dieta poi c'è insomma no poi c'è capodanno c'è l'epifania ci sono i matrimoni ci sono le comunioni ci sono i battesimi poi c'è pasqua poi ritornano i matrimoni vabbè diciamo che non c'è il tempo per fare la dieta durante l'anno comunque si mangiate però non strafogatevi e niente va bene la cosa più importante è passato un buon natale con i vostri cari e io spero di vederci presto e vi lascio alla nail art quindi buon natale e buone feste ciao 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 ciao